Ciao a tutti, questa mattina leggendo la rassegna stampa ho notato questo articolo dove Gnassi, il sindaco, si vanta di questa nuova strategia per promuovere Rimini sul mercato russo facendo questa convenzione, questa associazione, questo co-marketing come lo chiamano loro con un mobilificio russo gestito da un riminese e anche nell'articolo è riportato che praticamente viene promossa la nostra città anche con immagini di Rimini allora mi sono incuriosita, sono andata a vedere sul sito di questa azienda russa per vedere appunto come la nostra città viene promossa con del co-marketing pagato dai cittadini naturalmente perché ricordiamo che per queste azioni vengono usati soldi tramite ad esempio APT e quindi soldi dei cittadini APT che come sapete già in passato ha usato i soldi in maniera un po' così diciamo allegra per promuovere il territorio quindi stiamo continuando come vedete a tenerli d'occhio bene, andiamo sul sito di questa azienda e scopriamo una bella cosa apriamo il video dove viene promossa questa linea di mobili chiamata Rimini effettivamente Rimini, il video parte con un'immagine del ponte di Tiberio peccato che sia praticamente l'unica immagine di Rimini che si vede all'interno del video perché poi come potrete vedere qui ci sono immagini di un mare che purtroppo non è il nostro ma semplicemente perché ha una conformazione diversa questo paese ai piedi dei monti sicuramente non è Rimini e sorpresa delle sorprese a Rimini sono spuntate le Dolomiti queste come vedete sono le cime di Lavaredo, le Dolomiti io fino a ieri andavo al mare significa che da domani dovrò imparare a sciare in questo video non si vede se non appunto il ponte di Tiberio iniziale nessuna immagine di Rimini non si vede un ombrellone, non si vede una spiaggia, non si vede un locale dove la gente può andare a divertirsi non si vede il centro storico di Rimini che oltre al ponte di Tiberio ha tante altre cose da visitare quindi ci chiediamo come possa essere promossa Rimini se poi vengono fatte vedere immagini completamente diverse io non so Gnassi se ha visto questo video sicuramente l'amministratore di questa azienda è assente forse da un po' troppo tempo dalla sua città perché non si ricorda nemmeno come è fatta Rimini visto che Gnassi sui giornali dichiara di aver preso i russi per la gola secondo noi li ha presi un po' più in giro, ecco insomma più che per la gola per un'altra parte del corpo non so se questo video arriverà anche in Russia però vi volevo dire cari amici russi se venite a Rimini queste cime seppur belle, bellissime, fantastiche però non fanno parte della riviera romagnola sicuramente fanno parte di un'altra regione altrettanto bella quanto la nostra però questa non è Rimini non so se stai finire